La crescita dell'imprenditoria femminile non si arresta e anche nel Salernitano il calcolo sulla dinamica dell'impresa rosa fa emergere il dato positivo del 2017, un aumento dello 0,91% rispetto al 2016. Sono infatti circa 250 in più le imprese a conduzione femminile iscritte nel registro della Camera di Commercio di Salerno e i due settori economici in cui si ha una loro maggiore concentrazione sono il settore agricolo e quello turistico. Ma la presenza femminile cresce anche nelle attività dei servizi alle imprese e alla persona. La sanità e l'istruzione sono i comparti in cui la componente donna ha un peso percentuale più consistente, arrivando complessivamente quasi al 35%. Nel commercio quasi un'impresa ogni quattro è a conduzione femminile. Di contro si confermano ambiti tradizionalmente maschili, le costruzioni e i trasporti e le spedizioni. Questo in sintesi è quanto emerge dalle elaborazioni dei dati infocamere effettuate dall'osservatorio economico provinciale della Camera di Commercio di Salerno. Grafici e tabelle statistiche sono reperibili sul sito web sa.camcom.it